Ciao a tutti e a tutte, io sono la ninfa Garda e vi aspetto lungo le rive del lago di Garda per raccontarvi sempre fiabe bellissime e avventure mozzafiato. Quest'anno ho pensato che potremmo goderci tutti insieme i viaggi di Gulliver per scoprire i suoi amici strampalati e soprattutto andare alla scoperta di posti sconosciuti. Quindi vi aspetto, buon viaggio e buonanotte di fiaba 2023! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Sono la ninfa Garda, figlia del dio Benaco. Nelle notti di fine agosto si mettono in scena fiabe, avventure, racconti, si ascoltano le musiche per le strade di riva del Garda, si incontrano giocolieri e trampoglieri. Quest'anno ho pensato che potevamo viaggiare insieme a Gulliver e scoprire le sue fantastiche avventure, i suoi amici strampalati e visitare posti sconosciuti. Notte di fiaba, notte di fiaba, notte di fiaba, notte speciale che fa nascere il sole, e notte di fiaba sono noi. Notte di fiaba, notte di fiaba, notte di fiaba, notte di fiaba, è notte di fiaba con noi. Notte di fiaba, notte di fiaba, notte di fiaba con noi. non è una proposta di suoni, mille parole, mille emozioni, guarda tutta l'energia e diventa pure la margina. E ballerò senza un perché, un mondo fa, un mondo che c'è nel grande giro al mondo, oggi viva! È un felice del mondo!